che tal questo è il video speciale per i 5.000 iscritti mazza si è iniziato in questo video ragazzi ci sacrificheremo per voi mangiando degli strani e assurdi snack arabi abbiamo sia dolce che salato quindi direi di iniziare con il salato ok ok abbiamo forza inizia se abbiamo questi flips ragazzi che sono snack ai gamberi e patate wow gamberi e patate buono un classico intramontabile effettivamente sanno di nuvolette di gamberi vabbè allora sì sì potrebbe essere ragazzi è la salute già mangia Caterina prosi 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 dicono solo prosi vabbè che può sta buoni magari mi danno a cena tutte le sede questo io intervallerei con le altre cose concordo per pulirci la bocca abbiamo questa fantastica confezione guardate ragazzi il brand si sa vendere fig bar che sono dei biscottini con la crema hai fighi hai fighi hai biscottini no 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 dai fai tu perché fanno cagare queste crema ok è il mio distrutto no ma no ma no oh dio no no ok no 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 3 2 1 vai è un bubba bubba è un bubba è un bubba è un bubba fa veramente cagare questa fa schifo è tipo furgante non solo furgante è un bubba è un bubba è un bubba vicious come si aprirà come si aprirà cioccolato e formaggio easy facile birl solution dobbiamo migliare il biscotto nel cioccolato step versus la confezione si lascia Il formaggio ha un colore bellissimo eh ragazzi Sembra tipo marmellata d'arancia Tu lo devi mangiare non ci devi dipingere Esatto Secondo me sì invece Prego dovete immergere questo sia nel formaggio che nel cioccolare Sembra come si chiama Allora Il crystal ball Eh sì Ma siamo sicuri che non è 3, 2, 1 Via Buono Ma dov'è il formaggio? Buono Il formaggio è dolciastro Comunque Ma siamo sicuri che è la formaggio Cheese Cheese Questo promosso a pieni voti Direi di passare i datteri No Sicura Snack mamul Snack mamul Con datteri selezionati dall'Arab della Saudita Che comoda Vabbè la consistenza ragazzi è piuttosto soft Non è dura L'odore è come quello dei fichi L'odore è L'odore che non ci può stare tranquilli Alla vostra È passatissimo La lappa La lappa lo sa Mia mamma li fa più buoni Facciatelo Ragazzi adesso Dolce si infonda Il top del momento Questo è un cappellino Perché non l'ho capito Ah è un cappellino? C'è il bambino col cappellino E il cappellino sopra Si chiama Ulker Ulker Grande Ulker Cuccoa cream Creme de cacao L'incredibile Ulker Ah ma questo tipo si mangia Così Sì Eh già Cheers Bye E dentro il piriccio Alla non vedi come sembra È buono però È buono È tipo burro e cioccolato Burro e burro Con un po' di cioccolato Burro e burro E poi Proviamo Se c'è avanzato Gli c'è cascato un po' di cioccolato Un po' di cioccolato È buono È buono È buono È buono Questa è la cosa migliore Ragazzi se volete biscotti e gamberi Col cioccolato 100 mi piace Scrivetelo nei commenti E faremo un altro video In cui mangiamo queste cose Mischiate fra di loro E poi troveremo tutti 100 mi piace E li ammazzeremo Allora ragazzi Vi ricordiamo che Ai prossimi 100 mi piace Faremo un altro video Con le nostre delizie Barra schifezze Ave Il nostro fegato Vi ringrazia Condividete il video Se vi è piaciuto Anzi condividetelo E basta E basta E grazie mille Per i 5.000 ancora Mua Abbiamo Anzi Adesso siamo a 5.200 qualcosa Quindi ringrazio anche Quello 200 in più Mua I love you so much Ciao 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 Italia Bella